Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita. Ai, quanto a dir quell'era e cosa dura, e sta selva selvaggia e aspre e forte, che nel pensier rinnova la paura. Tanti amara che poco e più morte, ma per trattar del bene chi vi trovai dirò delle altre cose chi vo scorte. Io non so ben ridir com'i ventrai, tant'era pien di sonno al che punto che la verace via abbandonai. Ma poi, chi fui al piede un colle giunto, laddove terminava quella valle che m'avea di paura il cor compunto. Guardai in alto e vidi le sue spalle, vestite già dei raggi del pianeta, che mena dritto altrui per ogni calle. Allor fu la paura, un poco quieta, che nel lago del cor m'era durata, la notte che passai con tanta pieta. Ciao turisti! Questa settimana, qui in Italia, ricorre un anniversario molto importante per la letteratura italiana. Il 25 marzo si sono celebrati i 700 anni dalla morte del sommo poeta italiano Dante Alighieri. Noto anche con il solo nome Dante, egli nasce a Firenze tra il 21 maggio ed il 21 giugno 1265 ed è morto tra il 13 e il 14 settembre 1321 a Ravenna. Giustamente, ora vi starete chiedendo, se è morto a settembre, perché mai l'anniversario ricorre il 25 marzo? Bene, allora, come potete ben sapere, Dante Alighieri ha scritto la Divina Commedia, inizialmente conosciuta come Commedia. Il poeta inizia il suo viaggio ultraterreno il 25 marzo ed ecco il perché la scelta di questa data. Il sommo poeta ha cambiato la storia della lingua e della letteratura italiana. Gli incontri fatti e le città visitate lo hanno indubbiamente aiutato ad avere il titolo di sommo poeta italiano. Ma quali sono i luoghi di Dante? Dante Alighieri, nel corso della sua vita, è stato in numerose città, che ora voglio scoprire insieme a voi. La prima tra tutte è Firenze, il polo principale della cultura italiana, adornata dalla cattedrale, il battistero, gli uffizi e tanto altro ancora. Ma cosa puoi trovare di Dante? La sua casa, situata in via Santa Margherita, nelle parti più antiche del centro di Firenze. Abbiamo poi Bologna, dove si ritiene che Dante abbia soggiornato per un po' di tempo, frequentando l'università di Bologna, una delle più famose in Italia. Bologna è famosa per tante cose, le sue torri, piazza maggiore, la fontana del Nettuno e chi più ne ha, più ne metta. Nel corso della sua vita, il poeta inoltre partecipò come cavaliere ad alcune campagne militari contro i suoi nemici esterni, come per esempio Arezzo, famosa per la Chiesa del Pieve, il Museo archeologico Mecenate ed il Museo Statale d'Arte Medievale. E poi contro Pisa, caratteristica per la Piazza dei Miracoli, dove trovi la famosissima Torre di Pisa. Tra gli altri luoghi di Dante troviamo poi l'Eterna Roma, la capitale italiana. Per Roma è impossibile però fare una breve lista delle sue meraviglie, ma tranquilli, dedicheremo un intero video proprio alla città eterna. Abbiamo ancora la romantica Verona, conosciuta per essere la città di Romeo e Giulietta, dove puoi trovare il famoso Balcone di Giulietta e l'immensa Arena di Verona. Infine abbiamo Ravenna, dove Dante ha vissuto fino alla sua morte. A Ravenna, oltre a fare tante esperienze culturali, puoi divertirti tanto, grazie a uno dei parchi a tema più belli e amati d'Italia, Mirabilandia. Hai visitato queste città? Se vuoi, scrivilo nei commenti e condividi le tue esperienze. Inoltre, se vuoi scoprire altri meravigliosi luoghi, seguimi sulle varie pagine social mi trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Sappi inoltre che con il prossimo video andremo alla scoperta del fantastico mondo Disney. Grazie a tutti.